Salve a tutti gente, ben ritrovati qui su Pausa Caffè. Pensavamo di aver archiviato una volta per tutte l'Isola dei Famosi, che è finita da un paio di settimane, e invece, e invece, assolutamente no. Perché tutti quanti, diciamo che più o meno, hanno rilasciato, subito dopo il programma, delle interviste, raccontato dei retroscena e sensazioni di questa esperienza che hanno fatto in Honduras, e per alcuni è terminata veramente a un passo dalla finale, non per colpa loro, certo. Ma c'è un concorrente che ha ricevuto una brutta sorpresa sul suo ritorno in Italia, cioè è stato proprio lasciato, e allora dalla compagna aveva parlato in più occasioni della persona che lo stava invece aspettando a casa, o almeno così pensava. In un momento di confidenze con il vincitore Marco Mazzoli, ha parlato di una storia appena nata con una ragazza. Sono bisessuale e non è una cosa che ho mai nascosto o di cui mi sono vergognato. Tra uomini e donne non ho preferenze. Davvero, non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più e quindi non mi posso definire omosessuale, il preambolo. E poi, le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qui è stata con una donna. Ci siamo visti un po' di volte e poi abbiamo detto vediamo come andranno le cose quando tornerò. Questo ci siamo detti prima che partissi. Ma evidentemente le cose per Gian Maria Sainato non sono andate benissimo. Questa ragazza ha infatti deciso di chiudere con l'ex naufrago, che infatti poche ore fa ha svelato di essere tornato libero. Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori. In realtà dopo l'isola non mi vuole più, ha scritto su Twitter Gian Maria Sainato, cornute mazziate in questo caso dall'isola dei famosi. Poi un retroscena sui compagni d'avventura. Ha anche rivelato che tra gli ex naufraghi c'è chi non gli parla più per colpa delle dinamiche del reality. C'è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l'ho nominata dato bacio di Giuda, insomma quelle robe lì da reality, non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. Ma iateven! Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao un saluto da Max.